L'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso all'Aquila per un evento promosso dalla Fondazione Magna Carta parla di ricostruzione l'ex capo della protezione civile ricordando quando dichiarò che ci sarebbero voluti almeno dieci anni per ricostruire la città fu criticato, ma lui sapeva che ricostruire un centro storico come quello del capoluogo non era affatto cosa facile. I ricordi dell'Aquila di quel periodo convulso, ma anche tanti volti amici Ovviamente tutti ricordiamo, poche settimane dopo quella tragedia del 6 di aprile il Consiglio Comunale nel corso del quale dissi che ci sarebbero voluti dieci anni per ricostruire questa città e tutti ricordiamo le contumelie, gli improperi, gli strilli, le urla, le polemiche che quella mia dichiarazione ha suscitato Peccato che davvero poi ci sono voluti dieci anni, ma io lo sapevo, infatti ho accettato tutte le critiche con grande tranquillità e grande serenità, sapendo che in una città così complessa, così vasta ma anche così ricca di patrimonio culturale, ricostruire di corsa sarebbe stato oltre che impossibile estremamente dannoso Il tema dell'evento era il rapporto tra la città e Vigili del Fuoco con la presentazione di un volume un rapporto saldo e indistruttibile Qual è la caratteristica dei Vigili del Fuoco? Viene fuori anche da questa storia che oggi presentiamo di un editore meridionale che tra l'altro agisce in un territorio difficile la caratteristica è che sono popolari, hanno reso lo Stato e il servizio dello Stato popolare Tra i presenti Laura Lega, Capodipartimento dei Vigili del Fuoco Importante il fatto che la Scuola Nazionale dei Vigili sorgerà all'Aquila Noi ormai, forse è stato proprio uno dei primissimi atti appena arrivato al Dipartimento dei Vigili del Fuoco è stato quello proprio di stipulare un protocollo di intesa con il Comune dell'Aquila perché vogliamo immaginare che qui nasca un polo formativo importante, strategico di rango nazionale, perché no, anche con una vocazione potenzialmente internazionale che sia ovviamente utile ai nostri Vigili del Fuoco che tanto hanno dato il legame con l'Aquila, ovviamente straordinario da quel drammatico 6 aprile 2009 ma che possa essere anche di incentivo per la comunità, per i ragazzi per chiunque si voglia avvicinare non solo al soccorso pubblico ma al desiderio di essere cittadini attivi quindi dandosi anche per quanto riguarda il tema della messa in sicurezza di questo territorio e non soltanto di questo